Buongiorno, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento meteo. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare like e attivare la campanellina. Parliamo oggi della raffica di maltempo, prevista nel corso del pomeriggio e soprattutto anche in serata, con fortissimi temporali e rischio anche di grandinate. Quando a partire dal tardo pomeriggio nuclei temporaleschi molto intensi in discesa dalle Alpi si andranno a formare sull'Alto Piemonte, sull'Alta Lombardia e soprattutto tra Bergamasco e Bresciano, sul Veneto e sul Trentino. Avremo molto calore, quindi un'energia molto elevatissima con uno zero termico fino ad oltre 4.000 metri di quota, quindi un calore molto intenso che andrà ad innalzare l'indice CAPE che sfiorerà valori di 3.000 Joule per kg con fortissimi temporali su queste regioni e rischio anche di downbust e grandinate di medie grosse dimensioni. Poi i temporali si andranno ad esaurire su quasi tutte le zone attorno alle 21-22 di questa sera. Nella giornata di domani avremo nuovi temporali con un indice CAPE che sfiorerà i 3.500-4.000 Joule per kg. Grazie a tutti.